5 euro di ticket per il posteggio di una macchina nella zona dei Lidi in un parcheggio peraltro abusivo. Gallipoli continua a far parlare di sé tra le pagine di cronaca. Dopo gli NCC irregolari, gli affitti abusivi, le granite a 7 euro, le urle, gli atti vandalici notturni, questa volta i poliziotti hanno fermato tre parcheggiatori abusivi che, muniti di blocchietti di ricevuta di pagamento, erano intenti a strappare le matrici dando il via libera al posteggio dell'auto in cambio di 5 euro. I poliziotti del commissariato di Gallipoli, diretti dal vicequestore Monica Sammati nelle ultime 48 ore, hanno sorpreso i tre che arrivavano ad incassare anche 1000 euro al giorno, un'attività abusiva e lucrosa che ha visto lo stop da parte degli agenti che hanno proceduto a sequestrare i proventi dell'attività illecita, a sanzionare i sensi del codice della strada, i tre con una sanzione di circa 800 euro. Nei loro confronti, i due giovani di Casarano e uno di San Nicola, sono stati adottati tre provvedimenti di allontanamento per 48 ore contestuale di vieto di ritorno a Gallipoli nell'ambito della nuova disciplina del cosiddetto DASP urbano, che in quanto misura di prevenzione punisce le condotte moleste nei luoghi pubblici.